Con la sindaca di Torino Chiara Pendino, allora Chiara Pendino, cosa è per lei la TV? È uno strumento informativo e anche uno strumento di divertimento e quindi insomma io devo dire non la guardo tantissimo perché non ho molto tempo ma sicuramente fa parte della nostra cultura. Dicono che c'è un rapporto un po' conflittuale tra il Movimento 5 Stelle e la televisione, magari può sfatare questo mito? I rapporti conflittuali esistono ovunque e un po' tra tutti purtroppo in questa società. Come in tutto è chiaro che ci possono essere critiche ma è evidente che comunque la TV è uno strumento importante anche dal punto di vista informativo di cui una società ha bisogno. Invece per quanto riguarda il tema di quest'anno, le frontiere, secondo lei ha azzeccato? Assolutamente, tra l'altro noi al stranello del libro parliamo di oltre il confine quindi l'abbiamo giudicato anche noi il tema del periodo, insomma ci sono persone con ruoli molto importanti a livello mondiale che parlano di muri, ecco io credo quelle non siano le politiche da perseguire.